È evidente, le anticipo perché dagli sguardi attoniti che ho di fronte a me la curiosità è sullo sviluppo delle ultime ore, ma mi permetto di dire che questa conferenza stampa nasce anche per essere liberi, autonomi e non subalterni a una discussione che rischia di essere molto di palazzo, chiusa nei palazzi e lontana dalla vita delle persone. Ho letto pochi minuti fa delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e devo dire che comprendo e condivido la sua forte preoccupazione e il suo grande richiamo alla serietà di tutta la maggioranza. È una sua prerogativa come Presidente del Consiglio e guida di una maggioranza reagire a delle fibrillazioni che a questo punto è giusto vengano prese sul serio e sulle quali si chiede anche una maggiore forza di collegialità, perché altrimenti è veramente difficile dare il segno di un indirizzo dove vogliamo andare.